Salve a tutti, benvenuti o bentornati nel nostro salotto letterario. Questa è Se Scrivendo Speciale Book Show, la trasmissione che vi mostra i nuovi volti della letteratura italiana. E cominciamo subito con il primo ospite di questa puntata. Scrivendo Speciale Book Show Collana a Prodi di Vertigo Edizioni. Il titolo è La Foresta dei Due Mondi e l'autrice è Silvia Zonchedu. Quando un re si avvicina alla fine dei suoi giorni, senza avere un'erede al quale affidare il regno, la situazione si fa delicata e pericolosa. Molti, umani e non, sono pronti a tutto pur di avere quel trono e naturalmente sarà il caos. Il difficile percorso per riportare la pace vedrà impegnate creature magiche e soprannaturali, battaglie e grandi prove di coraggio. Ma anche amicizie e amori sbucciati lungo il difficile, meraviglioso viaggio. E più che mai vedrà l'evoluzione interiore di un ragazzo che, messo di fronte al suo destino, dovrà conformarsi alle antiche leggi spirituali ed esoteriche, prima di compiere la missione che gli è stata affidata. Perché è lui il prescelto. Un'ambientazione squisitamente fantasy per questo romanzo di Silvia Zonchedu, in cui l'autrice cela e rivela grandiosi concetti di pura spiritualità, di coscienza cosmica, di amore universale, di controllo e padronanza della propria mente e delle proprie emozioni. Un libro che è molto di più di una piacevole e avvincente lettura. Un'ambientazione squisitamente